Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Heroes of the Storm in questo video utilizzerò Chen nella mappa Tempio Celeste vi auguro buona visione bene ragazzi ci troviamo al Tempio Celeste e diamo un'occhiata alle due squadre nel nostro team abbiamo Illidan, Manto Grigio, Tracer, Leoric e Chen contro Tral, Cho'Gal, Jaina e Gul'dan Chen, per favore sei l'ultimo di quelli vecchi che cosa hai un debuff? per farmi venire ogni partita che registro non schifo per favore ce la puoi fare e ce la posso fare va bene ragazzi quindi questa introduzione è stata sicuramente la migliore e anche la più indicativa del mio stato d'animo quando utilizzo questo cacchio di personaggio che è da tre settimane che cerco di fare un video su questo imbecille di un panda e qua manca il tempo proprio da subito comincia la partita in modo estremamente violento niente mezzo HP porca la miseria invece Illidan mi sembra un pochino in difficoltà quindi cerco di salvarlo da subito ok cerchiamo un attimo di ricomporci anche perché mi dice nice body blocking thank you e allora ragazzi quindi Chen come potrete notare già dall'inizio non utilizza mana ma utilizza una barra dell'energia che in realtà qui si chiama birra e in pratica questa birra la utilizzeremo per utilizzare i nostri attacchi che abbiamo qui a disposizione e per riprendere questa birra dobbiamo utilizzare il nostro tratto cioè la nostra D che vi leggerò per sicurezza anche perché lo sono mai a memoria però voglio essere sicuro di non dimenticare assolutamente nulla di questo personaggio vorrei che questo video fosse l'ultimo che prova a fare con questo personaggio almeno fino a quando non ritoccherà a lui un giorno chissà quando allora Chen beve dalla sua botte ottenendo 40 birra e 229 scudo temporaneo al secondo mentre beve fino a un massimo di 688 di scudo in pratica poi questo scudo dura per altri 2 secondi quindi è un'abilità incanalata quindi è importantissimo da sapere questo e vi spiegherò dopo il perché e questo è ciò che rende anche Chen abbastanza tankoso quindi in pratica dobbiamo un attimo basarci tutto il tempo su questo tratto per cercare di sopravvivere nella maggior parte dei fight poi la nostra Q calcio volante utilizza 10 di birra almeno per il momento anche perché poi a livello 4 prenderò un talento che vi spiegherò e in pratica ci permette come avrete visto un po' all'inizio di saltare addosso al nostro avversario ma soprattutto ci permetterà di metterci alle spalle di questo avversario che punteremo e questo ci permetterà di fare un bel po' di body block la nostra W colpo di botte praticamente scaglieremo questa botte impregnando il nostro avversario di birra e rallentandolo del 25% per 3 secondi poi possiamo utilizzare questa combo W perché in pratica quando impregneremo il nostro avversario di birra praticamente il nostro soffio di fuoco che fa danno in un in un cono davanti a noi praticamente ci permetterà di lasciargli un dot scusate ragazzi un attimo di silenzio perché proprio mi sto concentrando al 100% voglio vincere questa partita maledizione praticamente gli lasceremo un dot che praticamente farà fare in generale il doppio del danno totale quindi se facciamo 117 danni con il primo utilizzo senza il avversario impregnato di birra se invece beccheremo questo avversario che sarà impregnato di birra praticamente faremo letteralmente il doppio del danno già in ora è probabile che ci morirà quindi in generale queste qua sono le abilità dicendo mi sono dimenticato di dire che la nostra doppia W utilizzo 20 di birra e la nostra è 30 quindi praticamente un'intera combo così viene 50 di birra ora a livello 4 ho preso assalto mortale in pratica ho eliminato il costo in birra della Q che vi ricordo che è 10 e soprattutto mentre saremo sotto gli effetti della pinta fortificante faremo il 100% in più di danno con questa abilità ora è molto molto utile perché magari qualcuno potrebbe pensare ok non fa tantissimo danno però arrivato a un certo punto o almeno verso la fine della partita vi accorgerete come questa abilità farà malissimo e siccome Chen è uno di quei personaggi che sta molto spesso in mezzo ai fight diciamo che vi accorgerete anche che forse dico forse perché poi al solito sono le ultime parole famose riuscirò probabilmente a fare anche un bel po' di danno a eroi ora spero un attimo che Manto Grigio qui mi segua posso utilizzare la mia la mia birra qui per fornirmi un po' di scudo e resistere a tutti questi minion però purtroppo non abbiamo più la fonte curativa qui intanto sto prendendo qualche globetto quella anche se al solito non posso mai girare in pace per prendere questi globi però fortunatamente è il tempio celeste quindi quando i templi si attivano solitamente potremmo avere qualche possibilità di prendere qualche globetto in più senza doverci troppo preoccupare delle lane anche se sarebbe una cosa di cui vorrei preoccuparmi a livello 7 ragazzi ho preso l'equilibrio del Mastro Birraio che è un talento piuttosto interessante perché praticamente il tutto si basa sulla nostra quantità di birra praticamente ci fornirà un bonus in particolare ora se abbiamo più di 50 di birra praticamente avremo una rigenerazione di salute interessante cioè di circa 20 HP che no dovrebbero essere un po' di più in teoria quanto sono? 25 ecco non sono poi così tanti potrebbe sembrare però sicuramente con il nostro talento della rigenerazione del livello 1 sicuramente questa cosa può essere particolarmente interessante intanto continuiamo a bodyblockare qui li lanciamo via proprio date via questa zona è nostra uh è lì tracer col mini dive ha fatto un'ottima cosa siamo riusciti a prendere questa kill su guldan e poi quando saremo sotto i 50 di energia praticamente avremo un bonus alla velocità di movimento del 20% ora se stiamo perfettamente a 50 di energia di birra come in questo caso praticamente avremo entrambi i bonus quindi sia la rigenerazione che la velocità di movimento ovviamente durante i fight bisogna anche fare un attimo attenzione a avere sempre la birra a disposizione perché altrimenti ci potremmo ritrovare magari a non poter utilizzare le nostre abilità e non è quello che vogliamo quindi non è una cosa che dovete fare per forza però se volete avere entrambi questi bonus tutto il tempo potreste utilizzare tranquillamente la combo W ed è per fare in modo di avere questi bonus tutto il tempo in questo caso 35 di energia quindi avrò solamente la velocità e non voglio quindi per questo mi piace molto quel talento della Q perché in pratica posso fare tranquillamente W e avere sempre quel bonus senza pensare oh cavolo ho 40 di birra e non 50 e può sembrare una cosa un pochino antipatica da fare ora abbiamo raggiunto il livello 10 Jaina totalmente fuori posizione insieme a Tralle probabilmente ora riusciremo a buttarli giù perché ovviamente abbiamo una linea dietro di lui quando si dice non puoi scappare proprio quello era l'esempio non so che cosa sia successo al suo cadavere perché sta facendo un pochino di breakdance comunque a livello 10 ho preso Barile Vacante che è la mia ultimate preferita per quanto riguarda Cenne perché in pratica ci trasformeremo in una botte e praticamente cominceremo a rotolare possiamo utilizzare questa botte per spostare qualcuno dei nostri avversari e metterlo fuori posizione lo possiamo utilizzare per cercare di salvare qualcuno dei nostri compagni oppure possiamo utilizzarla anche per disingaggiare noi stessi ora scusate ora non saremo inarrestabili nel senso che invulnerabili noi inarrestabili diventeremo inarrestabili ok direi proprio che voglio utilizzare un attimo il barile provo a portare un attimo fuori posizione trall qui e in effetti è stato possibile utilizza la sua ultimate terremoto però siamo riusciti comunque a buttarlo giù insieme a tracer e che stavo dicendo in pratica saremo inarrestabili però non invulnerabili quindi mentre che saremo in questo barile comunque potremo prendere danni però in generale bisogna fare un attimo attenzione anche a come lo utilizziamo perché possiamo ad esempio innescare alcune piccole combo possiamo anche spostare qualcuno dei nostri avversari verso una nostra torre per fargli prendere molti più danni e così via cioè in generale man mano che la utilizzerete vi renderete conto che è un ultimate davvero interessante qui un bodyblock su chogal per cercare di buttarlo giù riutilizzo la mia D e utilizzo subito la Q per buttare giù il danno come vedete sto utilizzando molto spesso D e poi subito Q senza far incanalare troppo l'abilità perché come ho detto per quanto riguarda il livello 4 il talento del livello 4 praticamente faremo il 100% in più di danni quando saremo sotto gli effetti della nostra D ora qui potevo prendere in effetti fiamme indebolenti però ho preso praticamente in automatico questo talento che in pratica caccia volante rallenta i nemici e funziona in due modi se colpiamo un nemico che è inzuppato di birra praticamente lo rallenteremo del 70% se invece lo utilizziamo su un nemico normalmente cioè senza troppe cose strane quindi senza inzupparlo di birra praticamente allora rallenteremo del 35% quindi questo vuol dire che abbiamo sia la nostra Q che la nostra W per rallentare e diciamo che in questo modo possiamo un attimo provare ad assicurare qualche kill in più se è possibile soprattutto considerando che contro di noi abbiamo Gul'dan e Jaina che non hanno proprio un gran che di escape quindi rallentarli ulteriormente può essere una cosa piuttosto fatale per loro ora parlando dell'altra ultimate che è stata recentemente reworkata ora con recentemente intendo dire probabilmente qualche due mesi fa ora purtroppo non ricordo esattamente quando è stato reworkato e intanto è arrivato anche l'olio qua c'è un mega bodyblock su Chogal mentre Tracer lì sotto può sembrare un pochino in difficoltà però come l'impressione che andrò da queste parti scriverò ultimate di Jaina e poi utilizzo la mia per cercare di non farmi uccidere qui perché la situazione è diventata un pochino bruttina per noi perché è arrivato anche Tral e purtroppo Tral ci può mettere un bel po' in difficoltà ora voglio anche parlarvi del fatto che Chen se la cava malissimo contro avversari che possono stordire cioè quindi se ci ritroveremo contro una squadra comunque se vi ritrovate contro una squadra che può stordirvi facilmente mentre state utilizzando la vostra D Chen diciamo che si può trovare in gravi difficoltà perché come abbiamo detto prima Chen ha bisogno di questa D per cercare di sopravvivere in questi fight e questo significa che se vi ritrovate una squadra dove per dire già ci sono tre persone che possono stordirvi soprattutto quando siete ad esempio nel draft quindi nelle non classificate nelle classificate Chen di certo non è la scelta migliore che si può fare quindi in riassumendo Chen se la cava male contro le squadre piene di perdite di cc quindi i cc sarebbero il card control per chi non sa il card control sarebbero praticamente tutti gli effetti di perdita di controllo del personaggio quindi sortimenti fear quello che vi capita polimorf anche di brightwing ad esempio può interrompere cioè quindi vi diciamo che vi sto dando un po' tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda Chen praticamente l'ho giocato così tanto per riuscire a fare questo video che l'ho portato persino a livello 8 e qui sotto abbiamo un mega fight a quanto pare in corso qui c'è Gul'dan che è un pochino dietro quindi cerchiamo un attimo di colpirlo troppo a quanto pare questo fight non è andato proprio bene per noi anzi assolutamente no però continuerò a inseguire Gul'dan perché probabilmente potrò ucciderlo o anche no quindi utilizzo la mia ultimate per andarmene un attimo via stavo un attimo pensando se tornare un attimo lì nel fight provare a uccidere Gul'dan però c'è anche Ciokal lì quindi non mi conviene assolutamente come cosa Tracer purtroppo c'è morta pure direi proprio che me ne voglio andare da qui ci sarebbe un globo arrivo vedo un attimo le oriche che stava provando a fare qualcosa lì però cioè qui ci sono troppi minion mi sento un pochino in una situazione bruttissima quindi ho come l'impressione che me ne voglio andare da qui ora arrivo ho bisogno un attimo della fonte è un attimo dubito che comunque i nostri avversari continueranno a farsi sto boss perché si ritroveranno male arriva da un certo punto a parte le oriche che praticamente sta crepando all'infinito avevo bisogno purtroppo di questa fonte curativa uh lì Gul'dan con pochi HP però purtroppo adesso questa vulnerabilità ecco quando probabilmente ci sono anche bersagli che mettono vulnerabilità è un enorme problema provo a utilizzare un attimo la mia Q per provare a scappare la Ciokal che diciamo quello che mi spenta di più però purtroppo Jaina può fare un sacco di danno a causa del suo cono di freddo e purtroppo il fight non sta andando per niente bene per noi cioè diciamo ci siamo fatti prendere un pochino così e Tracer nel frattempo stava pulendo bot poi Rina un attimo apprezzo moltissimo il suo tentativo uh peccato quanto Grigio è stato leggermente asfaltato purtroppo la nostra situazione è delle migliori abbiamo le oriche che sono morti un po' troppe volte è vero che non abbiamo supporti quindi è un problema ok ragazzi dovete cercare di far fuori a sto punto sto Ciokal che praticamente è stato un pochino bloccato dal tornadoli del boss o lo uccidete uccidetelo maledizione le oriche non ci dovevi creare no ok ok questo boss ha fatto più vittime lui forse che tutte le nostre squadre messe insieme mamma mia ok vado un attimo verso top perché penso che ci sia solamente tralle volendo tralle la posso affrontare purtroppo il templio è finito quindi purtroppo non posso nemmeno sperare di abbatterlo però se vai in uno contro uno diciamo che non vincerà un gran che soprattutto se arriva l'olio di 10.000 anni e comincerà subito la nostra sagra del body block qui anche se comunque il terremoto lì mi ha rallentato un po' e per qualche motivo anche la mia colonna non è voluta proprio partire comunque siamo riusciti a prendere quindi questa piccola kill su tralle che non è per niente male intanto voglio continuare a prendere qualche globo perché al solito io con i globi dovrei smettere di prendere questi talenti anche se sono utilissimi perché comunque vi posso dire una cosa se non prendete questo talento a livello 1 per la rigenerazione della salute già di base la differenza è incredibile cioè si sente proprio la difficoltà di Cenna a sopravvivere nella maggior parte dei fight e qui la cosa mi sembra un pochino bruttina però un attimo praticamente asfaltare Chogal in questo caso abbiamo perma stordito almeno c'ho perché Chogal sapete che non si può praticamente stordire e infatti siamo riusciti un attimo a vincere questo fight probabilmente a uccidere anche a Gul'dan quindi siamo riusciti a fare un bel po' di danni magari dovremmo provare a pushare a prendere questa fortezza per un attimo provare a eliminare il problema della nostra top lane che è attualmente scoperta che purtroppo pochissimi HP intanto Trall fa la cosa sbagliata che va verso di me e ora ho preso birra purificante che in pratica quando subisco gli effetti debilitanti su di me adesso avranno molto 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 ben effetto esattamente 75% di riduzione soprattutto se vengo stordito mentre che sto utilizzando la mia D praticamente il suo cooldown verrà subito dopo azzerato quindi una cosa molto importante quando ci si ritrova contro delle squadre del genere ora direi proprio che ce ne dovremmo andare da qui mi prendo questo globo e poi ci andiamo a prendere qualche tempio che non sarebbe per niente male Tracer vuole conquistare il tempio e intanto voglio bere anche birra e peccato per poco stavo provando a utilizzare la D per arrivare a 50 di energia però purtroppo non ci sono riuscito per un pelo diciamo che qualche volta ce l'ho fatta ma non è proprio la cosa più semplice da fare arriva Ciogal quindi può essere un problema io e Leoric qui cercheremo di tenere un pochino questo tempio che non sarebbe per niente male magari dovrebbero concentrarsi un attimo su quel tempio di bot no troppo ci ha spostato da entrambi ok però intanto stiamo cercando di prendere quanti più colpi possibili dove andranno i nostri avversari probabilmente verso bot quindi ho come l'impressione che andrò verso bot oppure no perché Trull sta arrivando qui quindi questo vuol dire che sono in tre tra virgolette quindi andiamo un attimo su Trull lo body blocchiamo subito cerchiamo di allontanarlo per il momento intanto continuiamo a fornire un pochino di barriera qui al nostro leoric e a quanto pare i nostri avversari sono riusciti a fare il boss però noi nel frattempo ci siamo presi completamente il tempio quindi questo vuol dire che ora andremo potremo tranquillamente difendere come sta dicendo Illidan che ha più che ragione in questo caso anche perché adesso con questi tempi che abbiamo preso abbiamo distrutto tutte le fortezze dei nostri avversari quindi alla fine un boss per due fortezze alla fine in fin dei conti e diciamo che è un risultato abbastanza decente Illidan mamma mia ti vedo malissimo comunque ora che ci penso a livello 16 ho preso praticamente offre la casa come talento che in pratica la nostra D ci permetterà di fornire un pochino di barriera ai nostri compagni di squadra voglio un attimo provare a allontanare Chogal da qui prenderemo ulteriori danni non posso prendere attualmente la fonte curativa l'ho messo ovviamente sotto 34 torri voglio utilizzare oh no cosa ho fatto un errore mostruoso mi sono buttato sullo stun del boss ok adesso siamo un pochino nei guai forse no forse si siamo un bel po' morti no ragazzi no no non ci posso credere va bene ragazzi in generale questo era 100 me ne sto fregando se abbiamo perso me ne sto strafregando me ne sto strafregando onestamente perché Chen finisce sempre così abbiamo una buona possibilità di vincere e poi succede questo tutti i video di Chen vanno a finire più o meno così poi quando interrompo la registrazione vinto così dal nulla però vabbè in generale vi ho spiegato il personaggio è stata una bella partita comunque non c'è stato nessun tipo di flame quindi mi sta più che bene come cosa spero che anche voi vi siete divertiti ovviamente ora vi farò rivedere la build intanto voglio dare il punto a Tracer che praticamente gli si è anche bacato un pochino l'audio sta continuando a sparare all'infinito e vediamo un attimo le statistiche anche purtroppo quel piccolo errore è costato un pochino la partita lì dovevo andare direttamente ci stavo pensando se utilizzare la R provare a mandare via gli avversari dal punto di controllo e magari conquistare il boss però diciamo che mi sono concentrato di più sul tempio alla fine diciamo che non mi aspettavo nemmeno io un po' come Illidan di andare giù in quel modo forse purtroppo quando sono stati uccisi anche Greymane e Tracer purtroppo ci hanno messo un bel po' in difficoltà difficoltà lì a bot però in generale ho fatto abbastanza bene danno eroe come potete vedere piuttosto interessante in generale è stata una bella partita non c'è niente a che dire talenti allora a livello 1 ingredienti freschi a livello 4 assalto mortale a livello 7 equilibrio del mastro birraio a livello 10 barile vacante a livello 13 punto di pressione a livello 16 offre la casa a livello 20 birra purificatrice bene ragazzi al solito ricordo che con cene è sicuramente fattibile sperimentare altre build perché c'è un sacco di roba sicuramente il personaggio è molto molto divertente da giocare quindi ve lo consiglio è un pochino complicato come avete visto e che basta poco per farlo esplodere però è sicuramente un personaggio che fa divertire molto bene ragazzi spero che il video vi sia stato utile e direi che per il momento da X7 è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao